Questa estate avremo carenza di acqua. La mancanza di pioggia nel periodo autunnale farà sì che mancherà l'acqua questa estate se il fabbisogno sarà quello normale di luglio-agosto. L'anno della neve record, insomma, stando alle previsioni, porterà anche siccità. Le sorgenti hanno bisogno di tempo per rimpinguarsi e quei tre metri bianchi in collina poco possono. Quello che arriva dalle aziende del servizio idrico marchigiano è un vero e proprio grido d'allarme. Senza nuove captazioni, cioè nuove fonti, tra vent'anni sarà emergenza piena. Per farlo ci vogliono fondi, troppi fondi, ad occhio almeno 300 milioni di euro per tutta la regione. Studia una verifica nel territorio per altri sorgenti, nel rispetto delle condizioni ambientali e quindi anche di tutela dei territori, ma di distribuire in modo più eco e più uniforme le sorgenti o l'acqua laddove c'è la necessità. Da qui al 2030 non c'è una lira da spendere, non c'è una riga dedicata a ricerche sistematiche di nuove fonti, ricerche sistematiche di razionalizzazione della infrastruttura. Problema numero due è la dispersione dell'acqua nelle tubature. Il 25% va persa. I fondi attuali, cioè nella bolletta ci sono costi destinati alle infrastrutture, vanno per la depurazione. Non bastano evidentemente. Di qui l'appello alla regione. Da parte sua l'assessore Petrini ha ricordato l'impegno della regione e la legge 30 del dicembre 2011, secondo cui almeno il 6% della tariffa deve essere destinato ad investimenti.